Partiamo col chiarire una cosa, l'assessora Trigiani ha una residenza, ha un domicilio, che tipo di frequentazione ha con quell'immobile contestato? La Trigiani ha una residenza iscritta presso il comune di Manfredonia per la località che è stata oggetto dell'intervista. La domiciliazione successivamente al provvedimento di separazione emesso dal Presidente del Tribunale di Foggia è stata sempre presso la casa della madre, dove attualmente anche le utenze della stessa abitazione hanno il domicilio fiscale. Corrisponde avvero che un giudice ancora l'anno scorso ha riconfermato che Trigiani può restare in quell'abitazione, nonostante i suoi figli ormai siano maggioreni? Assolutamente sì, posso confermarlo anche perché il procedimento iniziale della separazione consensuale avvenuta intorno al 2014, se non ero qualcosa del genere, ha visto l'attribuzione della casa familiare con un provvedimento presidenziale del Tribunale di Foggia proprio tra Trigiani con i suoi figli. Ad oggi nulla è cambiato anche dopo l'omologa avvenuta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quindi mi riferisco a quello che hai detto in questo momento, cioè anche ha riconfermato le stesse patte condizioni precedenti. Un'ultima cosa, pensa che sia ancora il caso che Trigiani preservi la residenza in quel luogo? Assolutamente no, per mera opportunità perché si è stabilito un tribunale di inquisizione mediatica nei confronti della mia assistita, un vergognoso attacco social fatto da gente che poi dovrebbero stare zitti, cioè malinterpretazioni, insulti, quindi la cosa più bella è stata che la mia assistita non è destinata a nessun provvedimento giudiziario, assolutamente, è una questione di mera opportunità. All'inizio lo è stato per una questione fiscale, successivamente alla separazione, oggi non ci sono i presupposti, anche alla luce di quello che è successo. Un tetto ce l'ha, viva Dio, un lavoro ce l'ha, è dignitoso e la cosa più bella è vedere le tante persone, gli attestati di stima che si sono susseguiti in questi giorni, successivamente alla trasmissione stessa, perché non è bello fare un giornalismo che tenda a mettere la berlina in un'altra parte senza ascoltare l'altra parte, ma incalzare solo delle domande e poi montare un servizio ad arte solo per screditare le persone.